Benvenuti ai nostri cari follower. Un terremoto colpisce l'Italia oggi, lunedì 24 luglio 2023. E la gente lo sentiva. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di sostenerci prima con ammirazione per questo video e di iscriverti al canale attivando la campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo relativo al meteo in Italia. E tutte le notizie sui terremoti, momento per momento, grazie. Se la Terra ha tremato tempo fa nel sud Italia, nello specifico, in Sicilia, secondo il Centro Europeo di Sismologia, l'epicentro della Scossa è stato localizzato a 22 km da Catania, ad una profondità di 5 km dalla superficie della Terra. Secondo la stessa fonte, questo terremoto si è verificato lunedì mattina. Sono circa le 5 del mattino. E secondo il Centro Europeo sempre. L'intensità del tremore era di circa 3,2 gradi sulla scala Richter. I residenti hanno avvertito un tremito che è durato alcuni secondi. Un altro terremoto si è verificato nella stessa zona nello stesso momento. La sua intensità era di circa 2,5 gradi sulla scala Richter. Fortunatamente, questo terremoto non ha causato vittime. Stiamo dando seguito a tutte le altre notizie importanti che vi forniremo in seguito. Infine, rimani in salute.